Musica Furto con scasso al bar 56 di Mola, i ladri sono entrati da una finestra, i malviventi hanno rubato le slot machine e messo fuori uso la videosorveglianza, il bottino potrebbe aggirarsi intorno ai 10.000 euro. Fermato al porto di Piombino, tunisino con 51 grammi di eroina, la guardia di finanza supportata dall'unità cinofila ha individuato l'extracomunitario residente a Marciana Marina con la droga destinata al mercato elbano, ora è agli arresti domiciliari. Comune unico o comuni di versante? L'Elba non ne vuole sapere, niente di nuovo sotto i campanili dopo il sondaggio di Tio News sulla semplificazione istituzionale, ma i tre sindaci del versante occidentale sono possibilisti, anche se chiedono un percorso partecipato. Officina della musica, teatro per beneficenza con parole d'autore, sabato 5 marzo ai vigilanti la terza edizione della manifestazione, l'ingresso è ad offerta e ricavato sarà devoluto all'associazione Cure Pagliative Elba. Buonasera e benvenuti alla nostra consueta rubrica prima pagina che oggi vi mostra una novità piuttosto interessante. È stata restaurata dalla misericordia la lettiga del 1880, scoperta nel 2008 da Prianti con la rubrica a vivere l'ambiente in uno stato di completo abbandono. Oggi lo stesso Fabrizio Prianti, come vedrete nel servizio, ce la presenta insieme al governatore Meloni del Tutto Nuova. Era proprio il marzo del 2008 quando con la nostra fortunata trasmissione di Vivere l'Ambiente scoprimmo sotto il padiglione dei Murini, dove una volta c'erano le antiche cucine di Cosimo dei Medici, scoprimmo gettata tra molti rifiuti questa ambulanza. Questa era un'ambulanza del 1880, un'ambulanza a trazione umana, ovvero sia a quei tempi non c'erano motori e vari, si correva con questa, poi vi spiegheremo come funzionava. Era in condizioni, come potete vedere dalle immagini di repertorio del 2008, in condizioni pietose. Ecco, noi ci siamo raccomandati e mi ricordo terminamo il servizio dicendo questo mezzo ha salvato tante vite e riusciremo noi di vivere l'ambiente con l'aiuto della confraternita della misericordia, a rimetterla e a restituirci una parte della nostra storia. Questo è successo. Adesso vi lascio alle immagini e poi sentiremo dalla voce del governatore della reverenda misericordia, Simone Meloni, un po' la storia di chi è che si è prestato con tanta volontà a restituire una parte della nostra storia. Oggi siamo venuti in visita qui, sotto il padiglione dei mulini. Forse anticamente queste erano le cucine dello gel che abbiamo qui davanti. Ma il problema è questo. Nel nostro girovagare abbiamo trovato un reperto, un reperto molto interessante. Ecco, questo è un carro lettiga. E' il primo carro lettiga che nel 1880 è stato usato dall'arci confraternita della reverenda misericordia. Ci siamo domandati ma perché un reperto di questo genere così degradato viene buttato. E' stato buttato eppure questo ha raccontato una storia, ha salvato tante vite. Questo era un carro attrazione umana oppure anche, come è descritto negli antichi testi della reverenda misericordia, attrazione ippica. Pensate, qui c'è sopra una barella smontando alcuni marchigenni, la si poteva sfilare. Addirittura c'era dei tendalini per la privacy del ferito. E con questa si correva, si prendeva, si alzava, si correva, si andava verso il vicino ospedale, si spilava la barella e si portava l'infermo al pronto soccorso. Un reperto che è stato poi abbandonato nel 1905 quando è subentrata la prima carrozza a motore. Simone Meloni, governatore della reverenda misericordia. Ci ritroviamo. Abbiamo fatto tanto, sia noi di Teletirreno, puntuali come sempre, con le nostre memorie, cercare di riportare la vita, di mantenere questa fede di donare qualche cosa agli altri e recuperare anche i reperti della nostra memoria. È stato lungo questo lavoro, lungo otto anni. Cos'è successo? Sì, è un lavoro sicuramente lungo ma un lavoro che è molto complesso perché non riguarda solo questa ambulanza manuale, a mano, riguarda un po' la storia della misericordia. Sin dai primi momenti del nostro insediamento abbiamo deciso che dovevamo dare un'importanza forte alla storia, alla cultura della misericordia di Portoferraio che quest'anno compie 450 anni. Ecco per cui l'impegno a ristrutturare, a restaurare, a mantenere tutto ciò che è nella nostra disponibilità, nella nostra storia, nel nostro museo. Abbiamo restaurato uno stemma, abbiamo restaurato diverse parti del cimitero monumentale, stiamo portando avanti diversi progetti. Questo è uno dei tanti progetti, un progetto a cui tenevamo particolarmente proprio perché con te Fabrizio avevamo iniziato un percorso, un dialogo, ce l'avevi segnalata subito appena abbiamo preso in mano la misericordia e finalmente siamo riusciti a portarlo a termine. Un lavoro meraviglioso che mostreremo anche alla cittadinanza. Il domenica 20 lo porteremo in piazza, inaugureremo un mezzo di protezione civile che è questo qua alle mie spalle e con l'occasione vogliamo mostrare alla città la nostra storia, un pezzo della nostra storia, questa bellissima ambulanza a mano. Grazie, voglio terminare dicendo che non è per merito di Fabrizio Prianti che è successo questo, Fabrizio Prianti l'ha ritrovata, il merito è di Teletirreno Elba, puntuale come sempre a cercare nel limite delle possibilità di questa piccola grande televisione di restituire anche quello che è il nostro passato. Grazie a tutti. 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 I tre comuni dell'Elba occidentale potrebbero davvero dare uno storico esempio all'arresto dell'isola. In un anno e mezzo circa potremmo essere pronti con tutti i passaggi legislativi, ci ha detto Lorenzo Lambardi, sindaco di Campo. Certo, ha aggiunto, non è tutto semplice come sembra da mettere in fila. Sarebbe fondamentale però un percorso partecipato, sentire la voce dei cittadini. Non ho molte perplessità, ha aggiunto invece Andrea Ciumei, sindaco di Marciana Marina. Certo andranno messe in campo tutta una serie di professionalità amministrative in grado di far funzionare il tutto, perché è una cosa che non aspetta la politica. In questo senso la regione toscana ha lanciato un assist, se mantenesse la parola data. Lo stesso Gianni Anselmi potrebbe essere un tutor eccellente per questa operazione. La stessa Anna Bulgaresi, sindaco di Marciana, è possibilista anche se con qualche distinguo. Fra il dire e il fare c'è di mezzo una bella rivoluzione, ci ha detto con un pizzico di ironia tutta elbana, specie se pensiamo che questa cosa ci possa far smettere di litigare fra noi. Le stesse gestioni associate, aggiunto oggi in atto, ci hanno messo un bel po' prima di essere metabolizzate e non sono convinta che ci abbiano fatto risparmiare più di tanto. È comunque indispensabile, prima di tutto, un passaggio con i cittadini. Alla prossima mossa dunque, visto che qualcuno, come raccontato da TN News pochi giorni fa, ha già pensato alla costituzione di un comitato ad hoc. Resta però la possibilità che il comune Elba Ovest sia pronto a partire. I tre sindaci interessati, infatti di Marciana, Marciana Marina e Camponell'Elba, sono possibilisti, ma dicono serve un percorso partecipato. Vediamo. Sono stati presentati ai rappresentanti dei comuni toscani i bandi per i servizi alla prima infanzia 2016-2017. Quasi 10 milioni di euro dai fondi POR che serviranno a garantire la gestione locale dei servizi. Il nostro miglior risultato per i cittadini è essere riusciti a non cambiare nulla di un sistema di servizi importanti che qualificano da tempo la Toscana come quelli per l'infanzia, afferma l'assessore all'istruzione Cristina Grieco. Dei 9.867.000 euro che consentiranno ai comuni di mantenere o aumentare i posti a disposizione nelle strutture da loro gestite e di abbassare le rette negli istituti privati ma accreditati dove nidi comunali o pubblici non ci sono o sono insufficienti, con liste di attesa più o meno lunghe 6 milioni e mezzo serviranno per garantire i servizi e 4 milioni e 300 mila euro invece per il sostegno alle famiglie laddove le strutture pubbliche non siano in grado di rispondere nell'immediato alle richieste. Il meccanismo è semplice, dei contributi potranno beneficiare i comuni che se interessati dovranno rispondere all'avviso, potranno utilizzare i fondi per le spese del personale o della gestione del servizio in caso di appalto esterno, i contributi sono rivolti al consolidamento dell'offerta ma anche al suo ampliamento. Se un comune non ha alcuna struttura gestita direttamente o indirettamente potrà utilizzare le risorse per acquistare posti bambino e in nido o servizi per la prima infanzia, privati e accreditati. I comuni montani o di isole con meno di 5 mila abitanti riceveranno indipendentemente dal numero di bambini fruitori un bonus ulteriore di 10 mila euro, altrettanti ne beneficeranno i comuni che aderiscono ad una gestione associata, i due premi sono cumulabili. Vi ricordiamo l'appello che abbiamo fatto ieri per aiutare il piccolo Antonio. che attualmente è un bimbo di 3 anni, è autistico, che si trova in un centro a Salzo Maggiore. La famiglia ha chiesto un contributo economico che dovrà essere versato direttamente al centro Kirikou, gestito dalla cooperativa sociale Il Cortile. Vi ricordiamo quindi Liban perché non sappiamo se ieri c'è stato qualche problema con le ultime cifre del Liban. Quindi ve lo ricordiamo per chi volesse versare il contributo per Antonio Russo. La causale, ricordo ancora, è per Antonio Russo. Liban quindi è IT36Z06230659000008239528. E con questo appello chiudiamo la prima parte del nostro telegiornale e vediamo quindi insieme ora i titoli delle notizie che potrete seguire tra poco. Ben ritrovati in studio e partiamo parlando di servizi all'infanzia che sono stati garantiti con 10 milioni di fondi europei. I comuni quindi delle isole con meno di 5 mila abitanti riceveranno anche un bonus ulteriore di 10 mila euro. Altrettanti cumulabili per chi aderisce ad una gestione associata. Sono stati presentati ai rappresentanti dei comuni toscani i bandi per i servizi alla prima infanzia 2016-2017. Quasi 10 milioni di euro dai fondi POR che serviranno a garantire la gestione locale dei servizi. Il nostro miglior risultato per i cittadini è essere riusciti a non cambiare nulla di un sistema di servizi importanti che qualificano da tempo la Toscana come quelli per l'infanzia, afferma l'assessore all'istruzione Cristina Grieco. Dei 9 milioni e 867 mila euro che consentiranno ai comuni di mantenere o aumentare i posti a disposizione nelle strutture da loro gestite e di abbassare le rette negli istituti privati ma accreditati dove nidi comunali o pubblici non ci sono o sono insufficienti, con liste di attesa più o meno lunghe, 6 milioni e mezzo serviranno per garantire i servizi e 4 milioni e 300 mila euro invece per il sostegno alle famiglie laddove le strutture pubbliche non siano in grado di rispondere nell'immediato alle richieste. Il meccanismo è semplice e dei contributi potranno beneficiare i comuni che se interessati dovranno rispondere all'avviso, potranno utilizzare i fondi per le spese del personale o della gestione del servizio in caso di appalto esterno, i contributi sono rivolti al consolidamento dell'offerta ma anche al suo ampliamento. Se un comune non ha alcuna struttura gestita direttamente o indirettamente potrà utilizzare le risorse per acquistare posti bambino e in nido o servizi per la prima infanzia, privati e accreditati. I comuni montani o di isole con meno di 5 mila abitanti riceveranno indipendentemente dal numero di bambini fruitori un bonus ulteriore di 10 mila euro, altrettanti ne beneficeranno i comuni che aderiscono ad una gestione associata, i due premi sono cumulabili. Restiamo ancora in tema regionale e parliamo però di turismo. Dalla regione assicurano che non ci sarà nessun ritardo sulla nuova legge. Lo stesso assessore regionale al turismo Cioffo che dice che entro l'estate vareremo le revisioni della legge 2000 che definirà, e questa è la novità, anche il tema delle locazioni turistiche. Nessun ritardo riguardo all'iter della nuova legge regionale sul turismo. L'assessore regionale al turismo Stefano Cioffo prende posizione e ribadisce alcuni punti importanti della revisione della legge regionale 42 del 2000 che affronterà e preciserà tra le varie questioni anche quella relativa alle locazioni turistiche. Non c'è nessun ritardo, ribadisce Cioffo, rispetto alla tabella di marcia che la giunta regionale si era data in questa legislatura. In questi giorni è in discussione in seconda commissione del Consiglio regionale un testo di legge relativo alle competenze trasferite con la legge regionale 22 2015 dalle province ai comuni, passo necessario per non creare vuoti amministrativi. Entro l'estate, prosegue Cioffo, vareremo la revisione complessiva della legge del 2000 sul turismo che, oltre alla governance pubblica, affronta il riordino dell'offerta turistica delle imprese e delle professioni e definisce anche il tema, esploso negli ultimi anni, delle locazioni turistiche. Ricordiamo, aggiunge l'assessore, che queste locazioni sono regolamentate dal codice civile e da norme nazionali contenute nel cosiddetto codice del turismo, mentre sul tema dell'imposta di soggiorno la regione non ha visto riconosciuta dalla legge alcuna competenza specifica sulla sua applicazione. Il nostro obiettivo, continua Cioffo, è far emergere il fenomeno degli affitti turistici attraverso la conoscenza e la pubblicazione di coloro che intendono avvalersi di questo strumento attraverso la comunicazione obbligatoria delle presenze turistiche e identificando una serie di garanzie da offrire al turista a salvaguardia della qualità dell'accoglienza toscana. In questo modo saranno identificabili gli alloggi che sono destinati a questa attività e sarà possibile a livello locale censire ed effettuare verifiche che al momento risultano di difficile attuazione. Comunque sia, precisa l'assessore, non spetta alla regione determinare i soggetti che possono formalmente esercitare il ruolo di sostituto di imposta competenza esclusiva nazionale. Così come non le spetta identificare i soggetti tenuti al pagamento della tassa di soggiorno rispetto alla quale i comuni disciplinano, in modo articolato, entità, applicabilità ed esenzioni. In conseguenza di ciò, conclude Cioffo, è una scelta autonoma dei singoli comuni sottoscrivere accordi con soggetti privati per eventuali modalità di gestione della tassa di soggiorno. Ben ritrovato in studio e ora un ricordo. Due anni fa, il 4 marzo del 2014, moriva Renato Cioni, il tenore elbano che ha calcato, come tutti sanno, i più grandi teatri del mondo. Ricordiamo anche che a Renato Cioni, nell'aprile scorso, l'amministrazione di Portoferraio ha dedicato il teatro dei vigilanti. Portoferraio, proprio la città natale di Renato Cioni. Parliamo quindi ancora di teatro dei vigilanti per un'altra notizia, questa volta per parlare dell'Officina della Musica, che sarà nel teatro per una manifestazione di beneficenza con parole d'autore. L'appuntamento è per sabato 5 marzo e sarà la terza edizione della manifestazione. L'ingresso è ad offerta e il ricavato sarà devoluto all'Associazione Cure Pagliative Elba. Sabato 5 marzo, al Teatro dei Vigilanti di Portoferraio, la terza edizione di Parola d'Autore, uno spettacolo ideato e organizzato dall'Officina della Musica, Scuola di Musica che dal 2008 contribuisce alla crescita del panorama musicale elbano con il contributo del Comune di Portoferraio e della Banca dell'Elba. Saranno percorse le tappe più significative della canzone d'autore italiana a partire dagli anni 60 fino ai giorni nostri in un concerto che mira a dare risalto alla parte letteraria del cantautorato italiano, elevando la parola al ruolo di protagonista della serata. Saliranno sul palco alcuni degli insegnanti dell'Officina della Musica, Cristian Secchi, Semmi Marconcini, Federico Righi, Sergio Casella, Daniela Soria, Luca Anselmi, Ciro Legnante e Susanna Di Scala ed altri musicisti di spicco della fiorente scena musicale elbana, ovvero Laura Scappini, Marco Paolini, Beatrice Lenzini, Marco Carducci, Francesco Meola, Duccio Corsi, Francesco Porro, Massimo Galli, Giancarlo Miramare, Matteo Bastianini, Federico Bruzzano, Andrea Mosso, Diego Caroppo, Irene Mezzacapo e Marco Mezzacapo. Presenterà il poliedrico Federico Regini, autore di due libri di successo dal titolo L'Isola e Sogni e Dintorni e con alle spalle esperienze teatrali come attore e come autore. Per l'occasione l'ingresso è ad offerta e il ricavato sarà devoluto in beneficenza all'Associazione Cure Palliative Elba, che dal 2009 si occupa di assistenza ai pazienti oncologici. L'inizio dello spettacolo è previsto per le 21.30, si consiglia la prenotazione. Per tutte le informazioni si può scrivere a officinadelamusicaelba.gmail.com o attraverso la pagina Facebook dell'Officina della Musica. Vediamo ora, siamo all'ultima notizia, parliamo di Sport Report, ma non ne parliamo noi, ma diamo la linea ad Alice e agli scoglionati Viola, che come sempre sono ospiti del programma. Buonasera ai telespettatori del Tg di Tele Elba, siamo pronti per una nuova puntata di Sport Report, la puntata del venerdì che nasce come puntata di anticipazione del fine settimana sportivo elbano, ma che da diverse settimane ormai è anche il contenitore delle notizie che non stanno nella puntata del lunedì. Quindi parleremo della partita amichevole di rugby, fra l'Elba Rugby e il Lugano, vedremo le immagini e sentiremo le parole dei protagonisti. Parleremo ovviamente di calcio con tutte le anticipazioni della domenica sportiva, parleremo anche degli arcieri che continuano ad ottenere ottimi risultati quando vanno a fare le gare in trasferta fuori Elba. Ovviamente come ogni venerdì ormai da tempo ospitiamo gli scoglionati Viola, parleranno sicuramente della gara di Coppa della Fiorentina a Tottenham, che non è andata bene, ma Luigi era lì, quindi protagonista, e poi immagino anche del campionato in cui la Fiorentina comunque non sta andando affatto male. Quindi la serata di sport questa sera è intensa e inizierà subito dopo il telegiornale. Grazie della linea, vi rubiamo solo pochi secondi per dirvi non ve ne andate, rimanete perché dopo il telegiornale, in Sport Report, ci siamo noi. Ci chiedono sempre, ma non vi vedo più, non vi vedo più. No, poi ci sono io, non c'è l'antimago, quindi ci sono io. Ci sono io, dove andate? C'è il mago, l'unico, il vero mago. A dopo, sentitene delle belle, ciao. È tutto quindi per questa edizione del nostro telegiornale, vi ringraziamo per averci seguito e ricordo che dopo il nostro telegiornale andrà in onda Sport Report con Alice Frateschi, ospiti come sempre, gli scoglionati Viola, il tifo organizzato della Fiorentina. Grazie per averci seguito e a tutti un buon proseguimento di serata sui nostri canali. Grazie per averci seguito e a tutti un buon proseguimento di serata sui nostri canali. Grazie per averci seguito e a tutti.